caponata siciliana io la faccio così e tu iniziamo per prima cosa metto a tossare i pinoli in una padellina poi in olio bollente frigo le melanzane che ho tagliato a pezzetti abbastanza grossi quando saranno dorate le tolgo facendole scolare e le metto in un contenitore con carta assorbente poi una volta fritte tutte metto l'olio in un tegame capiente aggiungo le cipolle tagliate abbastanza sottili dopo un paio di minuti metto il sedano tagliato a rondelle poi dopo un altro paio di minuti metto le olive verdi snocciolate tagliate a pezzetti aggiungo i capperi metto i pinoli tostati i pomodorini tagliati a pezzetti sistemo e faccio cuocere per un paio di minuti dopodiché regolo di sale abbasso la fiamma e faccio cuocere per 15 minuti coprendo col coperchio nel frattempo preparo l'agrodolce quindi in un contenitore metto lo zucchero l'aceto di vino bianco la passata di pomodoro emulsiono con una frusta alzo la fiamma e verso tutto nel tegame quando l'aceto sarà evaporato spengo e aggiungo le melanzane mescolo bene poi metto il basilico pizzico di sale ultima mescolata e lascio da parte per qualche ora eccola qua allora che ne dite secondo me è squisita mamma mia grazie a tutti